Oggi è una bellissima giornata. E una bellissima giornata la puoi onorare prendendo delle decisioni importanti per la tua vita. Ci sono delle cose nella tua vita che avrai notato che sono perfette perché fanno brillare i tuoi occhi, palpitare il tuo cuore. Ce ne sono altre invece che lo rallentano. Ebbene, questa è una buonissima giornata per prendere una decisione. Chiedi a tutti gli angeli che ti possono sostenere di aiutarti a trovare il coraggio e tutte le risorse per poter fare queste scelte. Prenditi un angolino e ascolta dentro di te che cosa accade. Vedrai che questo ti servirà a creare chiarezza. E chiedi proprio agli angeli di avvolgerti nella loro energia perché tu possa scegliere con tranquillità, con serenità, che cosa è veramente bene per te e per la tua vita. E permetti che questa giornata sia veramente una giornata magica per permetterti di andare verso il tuo cammino, verso queste nuove scelte e verso una vita che ti assomiglia di più. E con questo ti mando un abbraccio e ti auguro una giornata favolosa. A presto, spero di vederti il 10 di dicembre al nostro bellissimo convegno. Ti aspettiamo, ciao!